Oggi andiamo a scoprire una vettura molto molto speciale, ne abbiamo parlato più volte e tra l'altro un mio collega Mirko Magni l'ha già guidata in anteprima. Questa volta ci dobbiamo accontentare di una presentazione statica ma perlomeno riusciamo a scoprirla e riusciamo ad analizzarla un po' nel dettaglio perché non ha più le camuffature e perché è nella versione definitiva. Quindi visto che come al solito ci sono un sacco di cose da dire perché è un progetto ed è un modello molto importante per il marchio Alpine, voi mettetevi comodi e noi ci vediamo dopo la sigla. Allora andiamo a capire un po' meglio di che cosa si tratta. Innanzitutto siamo davanti ad una vettura molto compatta, 3 metri e 99 di lunghezza per 182 centimetri di larghezza. Quello che impressiona di questa vettura, di questa Alpine, beh è proprio questa sua forma molto molto muscolosa, molto ricercata con tanti dettagli di stile davvero particolari. Lei, inutile dirlo, vuole essere l'erede di quelle mitiche bombe turbo degli anni 80 che hanno fatto sognare e che probabilmente fanno ancora sognare qualcuno ma in chiave ovviamente moderna. Via il motore termico, lo so che tanti storceranno il naso ma oggi i tempi sono questi. Quindi si passa a una piattaforma completamente elettrica, a prestazioni che fanno riferimento quindi a un nuovo modo di guidare elettrico appunto e a tutta una serie di futures che ad oggi rendono questo prodotto davvero molto molto particolare. E l'idea a vederla così dal vivo, questa è la prima volta che la vedo senza camuffature, è che effettivamente sia una bella sportivetta pepatissima, perlomeno dal punto di vista estetico. Perché ha un sacco di spunti molto interessanti come queste nuove luci AX che avevo già ritrovato quando feci il video sulla concept e che hanno, grazie a dio, conservato per quanto riguarda l'esemplare di serie. E poi troviamo anche fanali che ovviamente sono full led e che conservano ancora una volta questo motivo AX. Muscolosissimo l'anteriore con una serie di tagli, di prese d'aria e di appendici aerodinamiche e poi belli questi sbalzi dei passaruota perché ricordiamo che la base meccanica è quella della Renault 5 elettrica. Quindi una piattaforma nuova dedicata ma in questo caso i tecnici, vista la chiave un po' più sportiva, vista la connotazione più sportiva dell'Alpine, hanno allargato rispetto alla Renault 5 elettrica le carreggiate di 60 mm. E si vede proprio bene da questi archi passaruota neri che conferiscono questa particolare muscolarità all'insieme. E mi piace molto anche questa parte sottostante nera che stacca con il resto della vettura. Ma una cosa, un dettaglio che mi ha accorpito particolarmente proprio in memoria delle vecchie bombe turbo di cui vi parlavo, beh questa parte, questo solco, questa sorta di motivo all'interno della carrozzeria, delle portiere, che richiama un po' le mitiche prese d'aria delle Renault 5 Turbo. E poi arriviamo al posteriore, anche in questo caso troviamo forme generose, grazie appunto ai passaruota allargati che la schiacciano ancor di più a terra e poi tutta una serie di dettagli come le prese d'aria, che in questo caso vabbè sono finte ma fanno anche qui la loro figura, proprio ad allargare visivamente il body di questa vettura. Anzitutto partiamo col dire che la Alpine A290 è disponibile in due tagli di potenza, 180 CV per la versione diciamo entry level, o 220 CV come quella che state vedendo in questo momento, ovvero nell'allestimento più pepato, più sportivo che si chiama A290 GTS. La batteria è disponibile in un unico taglio da 52 kWh, quindi si tratta ancora di un'autonomia stimata e siamo intorno ai 380 km. Con questa cavalleria, 220 CV, la Alpine A290 riesce a coprire lo 0,100 in 6 secondi e 4 e a scaricare a terra sull'asse anteriore, perché ve lo ricordo che lei è solo anteriore, anche se a detta degli uomini Alpine pare che si stia pensando anche, o meglio non è esclusa anche l'ipotesi di una versione quattro ruote motrici. Quindi 300 Nm di coppia scaricati solo sull'asse anteriore e il fatto che l'SP si possa disinserire è una cosa importante che lavora a braccetto, tra l'altro, con un sistema che riesce a settare su più livelli la frenata rigenerativa. Vi faccio poi vedere all'interno dove è posizionato questo manettino, lo troviamo sul volante, un po' in stile Formula 1 e quindi tutto ciò dagli uomini Alpine è stato fortemente voluto per dare un carattere molto particolare a questa vettura in termini di guida. Quindi selezionare i diversi step di frenata rigenerativa vuol dire caricare magari maggiormente l'anteriore in fase di rilascio dell'acceleratore e avere poi un posteriore, passatemi il termine, un po' più ballerino, un po' più propenso ad allargare quel tanto che basta poi per chiudere la traiettoria, a tutto vantaggio di una guida sicuramente coinvolgente tra i tornanti. Anche perché il comparto tecnico di questa Alpine 290 è particolarmente raffinato. I tecnici hanno lavorato per esempio sulle sospensioni che sono state chiaramente riviste rispetto a quelle della Renault 5, sull'impianto frenante che è firmato Brembo con una pinza monoblocco a quattro pistoncini e poi ovviamente sono state riviste tutte le geometrie per quanto riguarda le sospensioni. E a proposito di dischi qui posso farvi vedere la pinza che è firmata Brembo, lo vedete qua, smontata, molto pesante tra l'altro, però particolarmente bella da vedere e anche efficiente nell'utilizzo perché freerà fortissimo, pinza monoblocco a quattro pistoncini, qui abbiamo il disco che è da 350 mm, ovviamente autoventilato e poi a proposito di ruote e di cerchi vi faccio vedere anche i disegni dei cerchi Lega disponibili per quanto riguarda la 290. Sono cerchi da 19 pollici, in tutti i casi, per tutte le versioni, pneumatici molto sportivi sviluppati da Michelin, in questo caso abbiamo il Pilot Sport S, pneumatici dalla misura 225 con una spalla bassa, barra 40 e quindi tutto ciò dovrebbe enfatizzare ovviamente il feeling di guida. Quanto ai disegni? Qui ne vedete uno che tra l'altro avevamo ritrovato anche quando siamo andati a vedere il concept dell'A290, qui davanti un altro disegno diciamo un po' più convenzionale e qui il nero lucido e ancora avanti lo stesso disegno ma con finitura in alluminio. Quindi dicevamo dei tagli potenza, 180 CV per la versione base, 220 CV per la versione più pepata che copre lo 0,100 in 6 secondi e 4 per una punta massima autolimitata al 170 orari. Io so che adesso questo dato, come è già successo anche per esempio per la tanto chiacchierata, Abarth 500 elettrica farà tanto discutere gli appassionati, però è stata anche una scelta relativa al fatto che una macchina elettrica deve ottimizzare l'energia e quindi i 170 orari in qualche modo sono frutto di questa scelta. Una prerogativa però dell'Alpine A290 entrando in auto è che attraverso questo volante di ispirazione virgolette Formula 1 posso gestire in tempo reale le prestazioni. Ve lo dicevo prima, attraverso questo manettino posso aumentare o diminuire in tempo reale, questa è una cosa importante alla guida, il carico sulla frenata rigenerativa. Quindi più carico all'anteriore alleggerendo il posteriore, grande cosa magari tra i tornanti, oppure minimizzarlo e quindi avere un impatto di rigenerazione inferiore a livello proprio di frenata rigenerativa. Attraverso questo tasto invece posso andare a selezionare le modalità di guida più o meno sportiva e l'altra cosa interessante è che qui c'è un'ulteriore levetta rossa che serve a fornire per 10 secondi il massimo della potenza, per esempio in fase di sorpasso o banalmente per togliersi da una situazione di impaccio in strada. E visto che sono qui dentro a questo punto facciamo una panoramica degli interni per capire un po' come sono fatti e che materiali andiamo a trovare. Avremo l'ormai classico doppio schermo digitale per la strumentazione, per il sistema infotainment con tutta una serie di dettagli chiaramente votati alla guida sportiva e tutta una serie di informazioni diciamo in bella vista proprio sott'occhio in riferimento per esempio anche alle temperature dei freni. Un bel volante con marcatura alle ore 12 che non guasta mai e poi più in basso un tunnel all'interno del quale troviamo i tre tasti per la marcia avanti il neutro, il folle o la retromarcia. L'impostazione è sportiveggiante e lo si capisce dal fatto che la plancia avvolge il conducente con i due schermi rivolti proprio da questa parte e poi tutta una serie di finiture davvero molto ricercate e particolari. Qui siamo sull'esemplare, ve lo ricordo, più accessoriato, più ricco quindi la versione GTS che conta appunto tutta una serie di finiture dedicate e poi queste grafiche luminose davvero interessanti. Ma la cosa che mi piace e che mi è piaciuta guardandola all'interno sono i sedili che così ad occhio mi sembra siano una reinterpretazione moderna di quelli della mitica Renault 5 Turbo. Ve li ricordate, no? Con la fascia centrale molto lunga e i fianchetti decisamente prominenti proprio a contenere il corpo nelle grandi accelerazioni. Ecco, questa mi sembra un po' una reinterpretazione ben riuscita di quelli che erano quei famosi sedili della Renault 5 Turbo. Oltretutto, beh, la fattura è molto interessante però è bella questa alternanza sia di colori sia di trame per quanto riguarda la parte centrale oppure i fianchetti. E visto che sono qui vi faccio vedere anche che dietro, come vi dicevo, abbiamo a disposizione tre posti quindi la vettura complessivamente ospita cinque persone un bel divanetto, c'è anche un discreto spazio tra i sedili posteriori e quelli anteriori e comunque la possibilità di avere, nonostante sia un'auto sportiva la comodità delle cinque porte, che non guasta mai. E allora adesso, prima di chiudere, facciamo un breve recap per capire un po' dove si colloca a livello di listino l'Alpine 290. Si parte da 38.000 euro, che lo so, non sono pochi sono tanti soldi, ma tutto sommato sono anche in linea con quanto fa la concorrenza e mi viene in mente ancora una volta la 500 elettrica Abarth che ha praticamente un listino tutto sommato sovrapponibile siamo intorno ai 37.000 euro. Qui però abbiamo più cavalli abbiamo anche il fatto di avere una carrozzeria a cinque porte e cinque posti, che comunque la rende decisamente più sfruttabile. le versioni sono due a livello di allestimenti si parte dalla base e la GT Premium con i 180 cavalli per passare alla GT Performance e la GTS Lei quindi versione super top di gamma da 220 cavalli che presumibilmente avrà un listino che si aggirerà attorno ai 45.000 e 46.000 euro. E allora, come al solito, prima di chiudere passo la palla a voi. che cosa ne pensate di questa Alpina 290 elettrica? Scatenatevi nei commenti qui sotto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!